Maga, ci può essere anche vero, il fatto che io sorrida in realtà è perché magari me la sto facendo sotto, no? Però l'ho accettato e l'ho capito quello che diceva. Per principio uno deve essere serio. Io sostengo che tu abbia sicuramente una tua solarità e una tua freschezza. Quello sì. Naturalmente. E quella ce l'hai e per fortuna. Non posso farci niente. Direi, e per fortuna ce l'hai. E' chiaro che la scelta dei pezzi che abbiamo fatto, soprattutto all'inizio, andava un po' sulla tua strada, no? Certo, certo. Adesso dobbiamo andare piano piano a tirar fuori tutto quello che tu hai dentro. Non far vibrare solo le corde vocali, ma anche quelle dell'anima, come mi hai detto nel primo conto. Allora, è chiaro che devi lavorare per tirar fuori con quello che tu hai già vissuto, tutto quello che puoi mettere a disposizione per il pezzo. Esatto, quello che mi è dispiaciuto è stato che abbia riconosciuto qualcosa di non vero, perché comunque a modo mio ho cercato di essere il più vero possibile.